Dopo aver svolto gli ultimi allenamenti, le squadre nostrane di Lega Pro si sono date appuntamento per martedì, quando ritorneranno a lavorare in vista della ripresa del campionato. La Nocerina dovrà preparare la trasferta di Viareggio contro una formazione sull'orlo di una crisi di nervi che nel girone di ritorno ha vinto soltanto due volte, mettendo insieme cinque sconfitte poi e tre pareggi. Dunque i toscani hanno frenato e non poco e la salvezza diventa obiettivo più complicato da raggiungere senza passare dai play-out. La Nocerina non potrà tra l'altro permettersi passi falsi, ha un calendario sulla carta non complicato e gli spareggi promozione dovrebbero essere cosa certa. Mercato, primi movimenti per il futuro, il giovane Scogna Miglio, gioiello della Berretti Rossonera, sarebbe già finito nel mirino del Milan. La Paganese invece dovrà tentare di conquistare la prima vittoria nell'ambito delle tre sfide interne consecutive che il calendario le ha donato in questa parte finale di stagione. Dopo i pareggi con il Benevento e quello nel recupero di giovedì con il Latina al Torre, gli azzurro stellati hanno praticamente l'obbligo di mettere KO al Barletta di Orlandi, altrimenti rischierebbero per davvero di vedersi risucchiati nuovamente in zona play-out. E un aiuto alla Paganese potrebbe arrivare dalla Nocerina. Se Scarpe e compagni battessero il Barletta e i Molossi riuscissero a sbancare via Reggio, diventerebbero cinque punti di vantaggio sui toscani, garantendo un finale di regolar season un po' più tranquillo a Grassadonia e i suoi giocatori che potrebbero così gestire al meglio le quattro gare restanti. Seconda divisione infine, pace fatta tra Guazzo e Zampa. I due che erano quasi venuti alle mani in una seduta di allenamento della Salernitana ad inizio settimana si sono abbracciati in mezzo al campo prima del rompete le righe pasquale. Auguri, pace e la serenità che è stata riportata nel gruppo tra il centrocampista e l'attaccante dopo che gli animi si erano un po' troppo surriscaldati. Non hanno aiutato di certo i recenti risultati negativi dei Granata. Cinque partite senza vittoria hanno di fatto rimandato una promozione oramai certa, anche se i tifosi e non solo loro hanno storto il naso per questo rallentamento della squadra di Perrone. Alla ripresa sfide interna la Rechi con il Melfi, l'occasione giusta per ritrovare i tre punti e ripartire verso la prima divisione.